Ciao a tutti, rieccoci con un altro dei bassi forzatamente messi in promozione Cosa abbiamo qua? Oggi abbiamo un, calma che è lunga Un Fender Jetspace Classic Player 60 Made in Japan edizione limitata E poi? Ce l'ho fatta e poi andata con il paese Bassonimus Che ci avete fatto mettere in promozione facendolo passare da 1199 a 999 Potete avere un'edizione limitata giapponese Classic 60 a meno di 1000 euro Lasciamo che siano le note a parlare per me, cariche di rancore C'è bello, peccato che non hai i tuoi pantaloncini Fiesta Red Guarda, Fiesta Red adesso un attimo perché mi devo anche cambiare Potrebbero arrivare Surf Green Vediamo tra un attimo Ragazzi, questo qua è uno strumento che è stato tra gli ultimi arrivati dalla fabbrica giapponese in Europa Faceva parte di un'edizione limitata della quale avevamo avuto molti modelli E' stato solo questo, è stata una delle edizioni che mi ha venduto di più in assoluto E' rimasto questo se lo so letto Esattamente Inspiegabilmente Inspiegabilmente non lo capirò mai Probabilmente perché voi non capite nulla Bassonimus cerca di educarvi E voi non capite Ecco Ecco, e quindi ha detto, Bassonimus ci ha detto Aiutiamoli Aiutiamoli a capire Questo c'è al manico tra l'altro glossy Al manico glossy con un bel profilo 60 estremamente comodo Bello, bello, bello Guardate, c'è sempre scritto Made in Japan Yes Ed è tutto vostro che potete acquistarlo con il lincone Venire a provare il negozio E soprattutto andare a vedere anche le altre promozioni Che ce ne sono tantissime Tantissime, vi aspettiamo al prossimo video su YouTube e su Facebook Ciao a tutti Ciao Che bella, che bello